Abbiamo sempre detto che il calcita ceciliano e il femminile, e ve le presento di persona, sono le cinque signore che con la loro organizzata partecipazione danno vita a questo sesto mercatino. Abbiamo Ombretta, abbiamo Cristina, abbiamo Francesca, Rossella con la quale spesso ci scontriamo e poi Claudia. Siamo molto contenti e soddisfatti anche proprio della gente che è venuta a Comprato, vorrei ringraziare come sempre tutte le persone che ci hanno aiutato anche con i dolci, quest'anno anche addirittura con i fiori, sicché siamo molto soddisfatti. Questa organizzazione è giunta al sesto anno, ma grazie a tanti sacrifici e a qualche incomprensione, ma poi tutto sommato finisce veramente in gloria, nel senso che vince sempre una persona, cioè una persona unente, un comitato, è il calcita. Siamo tutti volontari, il volontariato si fa volentieri come tutti quanti, però qualche incomprensione, ma questo qui è il minor male, visto che il risultato si raggiunge sempre, quindi siamo contenti e soddisfatti, saremo stanchi ma non ci sono problemi. Il nostro uomo di fatica, di fatica ma di cervello, la nostra Luciano ha una giornata intensa, questa qui grande fatica ma grande soddisfazione. È vero, è vero, fa piacere vedere la risposta della gente che premia l'impegno di chi si dà da fare, ma che capisce anche la finalità di quello che viene fatto. È sempre un piacere essere qui per il calcite, abbiamo una formazione completamente rinnovata perché abbiamo sempre il futuro davanti e ringrazio tutti gli amici che sono qui con noi. Grazie a tutti.